Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan e ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Oggi vi voglio presentare il nostro server di Red Dead Redemption Roleplay Dico nostro perché l'ho fatto insieme a Durone e Rally E poi c'è anche Mega che ci ha dato una mano, insomma ci dà una mano come admin in gioco Allora come vedete dalla lista dei server, appunto il nostro server di gioco si chiama Wild West Italia Ora vi vado un pochino a descrivere il titolo e poi vi faccio vedere le peculiarità che abbiamo inserito all'interno dello stesso Si trova scrivendo Italia nelle tag oppure semplicemente scrivendo Wild West Italia Ovviamente dovete avere Red Dead installato ed aggiornato all'ultima versione Non vi faccio vedere la lista completa dei server perché onesto e sincero come sempre non voglio fare pubblicità agli altri server E soprattutto proprio perché ce n'è un casino e si andrebbe a perdere nel mezzo Comunque ci abbiamo messo il logo Wild West Italia, nuovo perché non serve di nuova apertura Native Voice Chat perché usiamo la Warp 2.0 dove hanno inserito proprio la chat nativa del gioco Quindi non c'è bisogno di scaricare salti chat e dovete avviare salti chat, dovete aprire coso, team speak all'ultima versione No, entrate e parlate con la chat del gioco, ovviamente chat di prossimità Missioni, ho inserito delle missioni concatenate che creano una storia Un po' alla Red Dead Online È un server in whitelist perché l'abbiamo lasciato pubblico e sono entrati cani e porci a fare casino E poi abbiamo inserito anche il character transfer Vi state spostando voi o la vostra banda da un altro server dove non vi trovate bene Ovviamente dovete comunque fare la whitelist, non è che entrate punto e basta Però se vi spostate come banda non vi diamo case, non vi diamo armi, non vi diamo carretti Ma il character transfer vi diamo abbastanza soldi per rifarvi tutto quello che avevate prima Quindi non vi andremo mai a ridare gli oggetti Però vi daremo abbastanza soldi, secondo l'attuale economia del nostro server Per riavere tutto quello che avevate nel server da cui siete venuti via Sia come banda che come singolo Si clicca, qua giù, vedete qui ci sono tutti quanti gli script che, apro una piccola parentesi Non ho rinominato, non ho rinominato perché qualche furbone li rinomina col nome del suo server Mentre invece io non li rinomino perché sono script di altre persone Quindi è giusto che vediate gli script fatti non da Coridan Usati e modificati da Coridan Ma fatti da altre persone Non cambiate gli script perché perlomeno volete rendere merito alla persona O volete fare il classico scripterino della domenica ruba script Che poi l'ho fatto tutto io il server No, non l'hai fatto tutto te L'hanno fatto queste persone e ti semplicemente hai modificato il loro lavoro Che va bene, però ci mancherebbe, l'ho fatto anch'io Però almeno dai il merito Quindi non ho cambiato nessun nome Ed entriamo Allora, il logo in alto a destra Il discord che vedete ritrovate anche in descrizione Quello di voi è Non ci ho tolto lo sfondo Prossimo aggiornamento devo togliere lo sfondo a questa cosa Vabbè, comunque ci ho messo Vanderlinde Che è... tutti gli script che vedete non è roba mia È roba modificata ma non è mia creazione Premete il tasto E e si chiude Ora, prima volta che logate magari potreste essere un attimino nudi Non è un problema Questo è il mio personaggio Che nel gioco faccio da admin e NPC Quindi non è il mio personaggio giocante L'ho fatto un po' tipo Wyatt Earp di Thompson E sono tipo il Marshall Quindi comunque la figura In comando nel vecchio West è un po' più alta Tra l'altro si sta connettendo anche Eurone Comunque qui abbiamo la banca Che premete con spazio Ed entrate nel vostro conto Potete depositare soldi Prelevarli O fare un trasferimento a un altro giocatore E poi ci sono tutte quante queste Celle chiuse Che non ho ancora mappato Mappato tanto non ci serve per ora il cavo della banca Ma soltanto l'entrata E praticamente come vedete ora è chiusa Ma polizia Quindi Un agente di polizia In questo caso lo sceriffo o il Marshall Possono O anche un vice sceriffo Possono premendo il tasto Alt Fare animazione Andare a aprire la porta E adesso la banca è aperta Ovviamente queste chiavi Queste chiusure di porte Sono sincronizzate Lato server Non lato client Quindi anche se un giocatore scollega E ricollega Una porta chiusa rimane chiusa Ehm 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 Avverto un attimino Urone Che è un altro founder insieme a me Urone Ehi Cori Mi senti? Sì sì Sto facendo il video eh Sto preparando il video per il server Ah perfetto Ottimo Almeno si fa vedere Cazzo però io mi son fatto alto Ma ti ancora più alto eh Ehm Sempre in massimo Due metri Non lo so quanto è Mamma mia come ti sei vestito bene Che figo cazzo Te l'ho fatto proprio bene Complimenti E' stato molto bello Sì sì Sto bello Stavolta ti è venuto bene Sì Faccio un po' vedere le cose eh Ok vai 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 Comunque c'è la taglia All'altezza Vedete si può fare il personaggio Fino a due metri Calcolate che il mio è tipo Un metro e ottanta Un metro e ottanta Cinque No se del genere Quello di Urone È la massima altezza Negozio delle armi Si possono comprare Tutte quante le armi Compese al lazio Canna da pesca Si può andare a pescare Cortello peschinario Le faccio vedere un pochino di cose Più che altro Non vi faccio vedere tutto ragazzi E poi ovviamente delle armi Che abbiamo Gestione armi Io al momento Ho un revolver nevi Clicco E ci sono tutti i tipi di munizioni Quindi per ora Refullo quelle normali E abbiamo il nostro revolver nevi Completamente carico Premendo il tasto I Si va nello zaino E ho messo tutte quante le icone C'è la carne Che si può cucinare Perché ho messo anche la cucina L'avena per il cavallo Ho messo la pietra Che la pietra per ora Pietra e legna Si vende Però a breve Metterò anche la possibilità Di fabbricare Le proietti e le armi Quindi le armi Ve le potete fare Oppure abbiamo anche Tipo la torcia Ora faccio Un equip O abbiamo anche La lanterna Per le notate buie Soprattutto In miniera Ed eccola qua Questa è la lanterna Poi ovviamente Cliccando qui Si possono Devo ancora tradurlo Passare i I soldi A un altro giocatore Andando nell'ufficio Dello sceriffo Vi faccio fare Giusto un Una capatina Delle cose Più importanti Ovviamente Qui la porta La lasciamo aperta La lasciamo aperta Perché La polizia Che i menu Dei lavori White list Polizia e medici Sono col tasto U E come vedete C'è il menu Della polizia Dove c'hanno Tutti i comandi Ammanete Cose del genere Tradotto In più anche Il cavallo C'è la possibilità Di avere un cavallo Appunto Delle forze Dell'ordine In bassa a sinistra Radar Con vita E la riga blu Vedete il cerchio blu E la sete E la fame Però è soltanto uno Io tipo mi bevo Una birra Comprata al saloon Entrando dentro L'ufficio dello sceriffo Quaggiù abbiamo L'armeria Che si apre con G Ovviamente Soltanto se sei un membro Delle forze dell'ordine Quindi dell'ufficio dello sceriffo Skin Addirittura Armi E c'è anche il teleport Poi Quaggiù Premendo Enter Partono le missioni Per i bounty hunter Quindi sono pubbliche Andate come nell'online Ammazzare E consegnate Per ora soltanto morti Non potete portarli vivi Poi abbiamo il barbiere Per cambiare aspetto Il saloon L'emporio Che ora vi faccio vedere Compaio tutte le cose Il negozio dei vestiti Il negozio di armi E il macellaio A valentine Ma come vedete Zoomando indietro la mappa È mappata anche Saint Denis È mappata Rhodes È mappata Blackwater Per essere mappata Anche alla fin fine Tumbleweed Armadillo poco Perché c'è la peste Più abbiamo I campi coltivabili Potete andare a coltivare E coltivando Potete fare Due cose Uno Tutto quello che raccogliete Lo potete andare a vendere All'emporio Che ora vi faccio vedere Oppure Potete raccogliere Lo zucchero Piantare lo zucchero Raccogliere lo zucchero Poi andare nel fiume A qualsiasi posto vogliate Tanto basta che ci abbiate un secchio Ora vi faccio vedere Prendere l'acqua E con quello Potete zucchero Più acqua Più Un altro contenuto Che è un frutto Per fare la fermentazione Che non vi dico dov'è Ragazzi 2 più 2 fa 4 Di sicuro I frutti non nascano Dentro le miniere Quindi Guardate un po' la mappa Ma non vi dico dov'è Con questi tre oggetti Potete fare il moonshine Il moonshine Una volta fatto Non c'è uno script Per venderlo Perché noi admin Una volta Barra 2 a settimana Impersoneremo Degli acquirenti Di moonshine Quindi appariremo nella mappa Mandando un messaggio Lato admin Tipo Questa qui è la console admin Tipo manderemo un messaggio Del tipo Era Messaggi forse era su Notification Manderemo un messaggio Del tipo Messaggi privati O broadcast Che ne so Dando la regione Soltanto la regione Quindi potremmo dire Venditore di moonshine Arrivato Arrivato nel West Elizabeth Ad esempio Quindi facciamo Broadcast E come vedete Il messaggio appare A tutti i giocatori Connessi nel server Poi Col tasto F4 Abbiamo tutte le animazioni Come sedersi Appoggiarsi a un palo Appoggiarsi al muro Ad esempio Ve lo avvicinate A una superficie Premete F4 E lui cercherà Di fare l'animazione Più veloce Più corrente In questo caso qui Fa l'ubriacone Perché vedete Il classico ubriacone Sdreato sotto un cartello Poi Passiamoci Che si entra Al lavoro Abbiamo la stalla Dove potete comprare E mantenere cavalli E carretti Che vi faccio vedere E nel saloon Abbiamo messo Il venditore qui davanti Che vende La birra Potete ovviamente Suonare il pianoforte Potete Seder via tavoli Quindi le animazioni Sono tutte E andando Quaggiù All'emporio Ci sono Un po' di cose Nell'emporio Abbiamo messo Le cose che potete Vendere Che sono tante Quindi Abbiamo messo La pesca Branzini Tipi di pesce Caffè Carne cruda La carne la potete O vendere o cucinare E poi compra Ad esempio Attrezzi da scasso Servono per far partire Una missione La piccozza Serve per andare a minare Lascia da boscavialo Per prendere la legna Il secchio per l'acqua Per prendere appunto L'acqua Che ora vi faccio vedere Compro un secchio E se non è Il forcone Vabbè Per prendere la roba Dei campi Più questi due Blueprint Non vanno ora Ma Cioè Li potete comprare Ma serviranno Per costruire le armi Poi c'è il setaccio Insomma Per cercare l'oro E quant'altro Quando comprate qualcosa Premete il tasto I Guardate sempre Che ve l'abbia messo Qui c'è il secchio Per l'acqua Ho la canna Ed ho l'esca Ora vi faccio vedere Perché l'acqua Che è una delle cose Più belline Secondo me Che abbiamo messo Abbiamo anche La carne cruda E la carne cruda Si prende Scuillando le creature Quindi Le cose da fare Ora poi Sono veramente Tante nelle serve Perché poi Alla fin fine Di lavori Ce ne sono tanti C'è il pescatore C'è il contadino Qui ci sono le missioni Vedete Evento Fort Wallace Praticamente Le missioni sono Da parte Urone che fa casino Le missioni sono Concatenate Perché la prima Dovete comprare Un lockpick Che vi dà la possibilità Di fare la missione Del treno Finita la missione Del treno Vi dà la lettera Del presidente Per andare a Fort Wallace Finito a Fort Wallace Vi dà una mappa Del tesoro Che vi guida A Fort Mercer Finite tutte e tre Le missioni Vi prendete 1500 dollari Poi abbiamo messo Le case in vendita Quindi abbiamo Tutte quante le case In vendita Nel gioco Abbiamo messo La zona Dove andare A raccogliere l'acqua Che vedete È sempre segnata A mappa Ora vi faccio vedere E poi l'oro L'oro praticamente Lo potete prendere Col setaccio Ovunque L'acqua invece Soltanto in queste zone Segnate qua giù Boscaiolo taglia legna Legna E pietra Per ora Scusate Legna E rocce Della miniera Abbiamo anche la missione Della miniera Per ora si possono solo vendere Quindi prendetele E vendetele Pagano bene Più avanti A breve Nel giro di qualche giorno Spero massimo Una settimana o due Arriveranno appunto Anche la possibilità Di costruire le armi Le due cose più carine Che abbiamo messo A parte la stalla Dove si possano comprare Gli animali Vedete col tasto H Richiamo il mio cavallo Che arriva qui Bellissimo Satana In più Premendo il tasto U Sul cavallo Se mi ci avvicino Magari è meglio Aprite l'inventario Del cavallo In cui voi Tranquillamente Potete spostarci I vostri oggetti Ma non Le vostre armi Le vostre armi Quelle Vedete infatti Lo prende come arma Ma anche la torcia Le armi Non si possono spostare Quindi nel caso Ci potete spostare Due Di carne cruda Quindi comunque Anche il cavallo Fa da zaino Semplicemente Andando a trascinare Cavallo che si può portare Per le briglie Tranquillamente Come su Red Dead Online E Li potete Salendoci In sella E andando Nell'inventario Comprandolo All'emporio Gli potete dare L'avena del cavallo Vedete Andiamo da mangiare E gli rifullate La vita E la stamina E il nostro Re nero E' contento Poi Qui si va A scendere Un attimino Dal cavallo Che ve lo fa vedere La figata Praticamente Il frutto Che ora non vi faccio vedere Qual è in particolare Però alla fin fine A cosa ci serve Prendendo lo zucchero Coltivabile nei campi E Non più comprabile Quindi solo coltivabile L'acqua Dove vi ho fatto vedere E questo frutto Che vi ripeto Non c'è segnato Sulla mappa Ma non cresce Dentro le miniere Voi potete andare A premere Voi potete Andare a scrivere In chat Slash Distillatore E create Il distillatore Del moonshine Occhio Le missioni pubbliche Il distillatore Di moonshine E altre cose Che scoprirete In gioco Sono illegali Quindi il distillatore Voi lo potete Andare a costruire Dove volete Però ricordatevi Che è illegale Se vi becca la polizia O col moonshine Addosso O con un distillatore Con voi che state distillando C'è l'arresto Abbiamo creato L'accampamento Andare a spero di averla messa bene Ma questa Ribadisco È unicamente per fare Questa è solo per fare RP Al momento non c'ha Funzioni particolari Quindi venite qui Magari E ci fate un po' di RP Mi sembra che anche qui Col tasto F4 Dovrebbe prendere Qualche animazione No perché comunque È una cosa mobile Poi che ne so Vi fate un accampamento Mezzo al bosco Premete Scusate Il tasto giù Fate collocare oggetto E fate o collocare fuoco O calderone È la stessa cosa Io metto il calderone Perché Mi piace un po' di più E ora andando a mettere il calderone Vi ricordate che è nello zanio Della carne cruda Carne cruda Che può essere presa Cacciando Non si può comprare ovviamente Quindi dovete andare a caccia E ora poi si fa Un attimino Un salto E vi faccio vedere la meccanica Anche perché Ho messo che Tutti i carretti acquistabili Nella stalla Questo l'ho modificato io Tutti Dal primo all'ultimo Ci potete buttare dentro La cacciagione Che secondo me è anche la parte più Più importante Invece che portare una volta Premete G Guardate intanto Da averceli Quanti ce n'ho? Una Perché due l'ho messa nel cavallo Quindi G Cucina Carne de cerdo Devo tradurre Solo la prima Le altre non vanno Quindi anche se non è carne Cioè tutti gli animali Danno la stessa carne Quindi non è carne di cervo È carne Di selvaggina Andate a Cucinare E vi ritrovate la carne cotta Carne cotta La mangiate Vi refulla al cibo In più vi ridà anche vita e stamina Ma andiamo avanti Come avete visto Carne cucinata Con Z Fermiamo l'animazione Riandiamo ad aprire Il nostro campo E facciamo Rimuovere Tutto E la roba viene tolta Poi premiamo il tasto I E andiamo a mangiare La nostra carne cotta Carne che potete anche vendere Vi ricordo La potete anche vendere Se volete fare dei soldi Però in questo caso Io mi sono fullato la vita E la stamina Ora il cavallo Si fa allontanare Tanto per ora Non ci serve E venendo qua giù Ho comprato Un carretto E per esponarlo J Premete J Appare il carrettino E andiamo a caccia Ah non è andata a caccia Come me con la pistola Che fa un po' ridere Una volta ammazzato L'animale Vi avvicinate Non lo scuogliate qui Lo potete anche scuogliare Perché si può caricare La carcassa o la pelle Ma Unite l'utile al dilettevole Che guadagnate di più Dietro il carrete Tenete premuto Il tasto alt Ok L'abbiamo preso un altro Si va Anche questo Si raccoglie Ci si avvicina Al carretto Si carica Con il tasto Alt Tenendolo premuto Se non appare Giratevi un pochino Iniziate a guardarlo Da altre posizioni Muovetevi un po' Fino a che non appare Caricato anche questo Come vedete Sono due All'interno E si va Dal macellaio A A consegnare Che vedete È sempre identificato In tutte le città Come questo simbolino Qua giù Ah Sia chiaro È voluto Non è un bug Se andate nei negozi Delle altre città Non vendano E non comprano tutto Soltanto a Valentine Perché vogliamo Visto che Al momento I server Sono da 32 slot È inutile Dividerci per tutto un server Quando saranno Da 64 A 120 Ovviamente Metterò le cose In tutti i negozi Però per ora Vogliamo che il centro Nebragico Dell'economia del gioco Sia Valentine È inutile in 32 Come ho detto Dividersi Arrivati qua giù Ci fermiamo Potete anche andare A caccia col cavallo Però col cavallo Potete portare Soltanto Un animale Si vanno A raccogliere E o li buttate O scendete Io di solito Scendo Va a appoggiare Uno qui E salendo Sul carretto Si va Anche a prendere Il secondo E si va anche A portare Questo Gli animali Una volta Portate qua Perché vi ho detto Non li pulite Perché potete vendere Sia la pelle Che la carcassa E non sempre C'è una possibilità Una percentuale Ma che prendiate Anche la carne cruda Ora infatti Vediamo se ce la dà La carne cruda O l'andate a vendere Se volete Massimizzare soldi Tanto la fame L'ho ridotta a un terzo E non vi serve Di mangiare Vendete tutto Così vi fate un po' di soldi Anche perché l'economia È un po' lentina L'ho messa Quindi andate qui Premete G E vedete i soldi In alto In cima Sono saliti Ho fatto tipo Due dollari Con quella pelle Ah Come nell'online C'è la pelle normale La carcassa normale La carcassa perfetta E la carcassa Rovinata E la carcassa E la carcassa E la carcassa E la carcassa In vendita In vendita Ogni casa Premi enter Premi enter Per comprare Questa costa 1228 dollari Ovviamente Fino a che Non la comprate La porta è chiusa E una volta Acquistata Una casa Che ne ho presa Una piccolina Mi potevo prendere La breath weight Eh Invece L'ho voluta lasciare A voi Giocatori Mi Teletrasporto Qua giù E andando Qua giù Questa è la mia Bellissima casetta Dove la porta Mi sembra di averla lasciata Sì Chiusa E questa è casa mia Praticamente Aprite la porta Sbarrate la porta Così non può entrare Nessuno E La casa è puramente RP Ma non solo Perché andando qua su in cima E premendo il tasto Enter Come c'è scritto Inventario Quindi c'avete l'inventario Né Né In casa Né nel cavallo Né nel carretto Non si possono mettere Armi Lanterne Torce Canne da pesca Perché sono viste come armi Ma tutto il resto sì Quindi c'avete una Mandata di 30 moonshine Mettetela in casa E quando arriva il vendor In RP Che è un admin Che fa un NPC Siete pronti per giocare Ragazzi Questo è quanto Io voglio ricordarvi Che il server è aperto È in beta Però è aperto 24 ore su 24 È un server Full RP Ovviamente Se io apre una cosa Sapete che sono Fiscalissimo Ed è un server Ambientato nel Vero West No Western Alla Sergio Leone No Western Tipo firma Alla Young Hunts No Western Tipo Django Questo è il Vero West Qui si gioca Qui si gioca nel Vero West Con gente Che l'ha studiata O comunque Se ne intende Di quell'ambientazione Lì E qui giochiamo Nel Vero West Quindi dimenticatevi Cazzate come italiani A destra e manca Dimenticatevi altre cose Come tipo gli indiani Che a fine 1800 Scusate Appunto Fine Inizi 1900 Non sapevano parlare L'americano Io Spacca Io Distrugge Treno Che poi non chiamavano nemmeno treno Cavallo di ferro Cavallo di ferro Lo dicevano quando arrivò a Colombo Parlavano meglio Ed erano più armati Degli americani Quindi questo è un server Per serio Nativi americani Cinesi Irlandesi Spagnoli Messicani Italiani E altre cazzate No Anche perché ce ne potevano essere un pochino Una piccola comunità Ma poi tutti lo vorrebbero fare Quindi dal regolamento No Io ringrazio Zaposting Ragazzi Secondo Primo link in descrizione Discord Secondo Zaposting Se volete ordinare un server Perché il server è stato da Zaposting È una WPS Ragazzi Link in descrizione Usate il mio link direttamente E andate a prendere un server Tra l'altro La mia è una WPS Me lo sono fatto da solo il server Stando per mettere Gli easy setup Server che voi decidete Quale game mode usare Cliccate Ve la collega al database E entrate in 5 minuti pronti Quindi direttamente su Zaposting Trovate tutte quante queste cose E anche appunto l'host Non solo ufficiale di 5M Ma anche del mio server Ragazzi Siete invitate su Wild West Italia E vi ricordo che se volete entrare Col transfer del personaggio Ad un altro server Vi ridiamo i soldi per comprare tutto Se non venite da nessun server Ma volete entrare come gang Arrivate almeno in 5 A giocare nel server E comunque vi diamo dei soldi Per iniziare da subito come gang Non vi diamo 10.000 dollari Però magari 800-1000 dollari Per armarvi tutti quanti Quello sì Ragazzi vi aspettiamo E spero di continuare a farci video E live Il server è aperto Vi aspetto Ciao